Ecco allora adesso volevi far vedere delle immagini di un'iniziativa che ci va a ricordare anche un momento molto molto triste, un'iniziativa dedicata al settore giovanile. Si è svolta l'arma di taggia sabato mattina organizzata dalla società sportiva argentina Scuola Calcio Matteo Bolla, una manifestazione per i piccoli amici con le annate 2000, 2001 e 2002. Alla manifestazione hanno partecipato un centinaio di bambini appartenenti alle squadre della Sanremese, Ospedaletti, Golfo Scogliera, Riva Ligure, Don Bosco-Valecrosi, Attaggia e Ventimiglia. I bambini divisi per anno si sono prodigati in partite ai giochi sia sul campo in erba sia sul campo sintetico. Si diceva un'iniziativa triste perché ci ricorda la tragica scomparsa di Matteo Bolla.